Prima di tutto è sempre un onore stare qua e partecipare ad un sorteggio bello come oggi. Poi abbiamo visto che c'è tanta gente, tante squadre importanti qua. Poi dura, non è mica facile, poi tutti stanno crescendo tanto. Noi abbiamo, nell'ultima volta, una conoscenza della Repubblica Cecchia, poi loro sono forti, Giorgia anche, una squadra che sta crescendo tanto. Ucraina, poi sì, un gruppo tosto, fisico, duro, ma ci sta, bello e andiamo avanti. Poi, niente, noi dobbiamo giocare, non c'è niente da fare, nel senso, è bello, da provarci, da giocare, è una competizione difficile. Tutto si fa praticamente in tre mesi, si gioca tutto lì, settembre, ottubre, novembre, poi c'è un altro momento della nostra vita là, da fare un grande sforzo, da giocare, poi provarci, come sempre. Io penso che siamo a pari con tutti lì, è un gruppo difficile, molto equilibrato.